Allora, questa in controluce è la zona hangar, questa sarà tutta la zona hangar, compreso l'hangar già assistente qua davanti, di fianco alla clubhouse, qua la zona prendisola, questo è l'epron, quindi tutto il parcheggio per gli aeroplani, già che ce n'è uno si capisce bene dove sono, qua, nella parte in fondo ci saranno gli alianti, quell'albero, ci saranno tutti gli alianti, in quella struttura in legno lì davanti faremo un primo accoglimento in attesa della clubhouse, e poi la pista è enorme, sono 920 metri di pista, con un orientamento verso nord per 0,2 e un orientamento a sud, aperto in fondo, a metà abbiamo un altro vicino che ha anche un hangar che è in quella bianco là davanti, non è una gestione privata, ma non compete, e poi basta, ho scopito questa, davanti a noi dritto e là c'è un drive di golf, e il parcheggio per tutte le strutture recettive che ci sono, tutto lì, ringrazio, arrivederci. Grazie 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 Grazie